Ricordo ancora quando mio nonno mi raccontava quanto fosse importante per godere a pieno di bei momenti, fermarsi e scriverli in un diario, in modo che anche a distanza di anni chiunque potesse riviverli e sorridere. Così ho già fatto un salto nel passato. Come here, rock and roll, everything's fine. Come here, rock and roll. Equilibrio! Sì! 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 Sì Sì